Il normale per il gol all'inizio del secondo tempo è chiaramente una partita a poi e si è chiusa. Quindi l'ammarico è aver preso il gol all'inizio del primo tempo, all'inizio del secondo tempo, poi il terzo, su due calci terzati che siamo stati un po' disattenti. Mister, una partita completamente diversa quella dell'andata, dove la fermata aveva messo molto agonismo e le due partite stavolta, dal punto di vista dell'agonismo, ha visto la Samba prevalere. Sì, la Samba ha fatto la partita che ci aspettavamo, ripeto, l'ammarico nostro è quello di aver preso il gol subito. Dopo quattro minuti prendi gol e chiaramente fai fatica poi a recuperare. La partita è stata in vidi, nel secondo tempo c'è stato quest'altro gol su un calci piazzato, su un angolo dovevamo rinviare e non abbiamo rinviato. Quindi diciamo che abbiamo sbagliato qualcosa. Senda, per Morelis, nonostante la vittoria, che c'è una differenza tra le due squadre, insomma? Ma credo che la Samba di Tese sia stata costruita per fare un campionato di vertice. Noi dobbiamo salvarci, questo è palese, è chiaro per tutti. Comunque siete stati anche vantaggiati, siete tutti l'altro squadro vantaggiati dal Modena che... Adesso non mi interessa, noi dobbiamo pensare di lavorare, cercare di migliorarci, recuperare i sei infortunati che abbiamo e quindi questa sosta per noi capita giusta.